Le buone azioni hanno sempre dei risvolti positivi e illuminano le giornate di chi le compie e di chi le riceve. A volte una gentilezza da parte di uno sconosciuto può persino alleviare il dolore della perdita di una persona cara, proprio come vi mostreremo in questo video. Ascoltate questi racconti fino alla fine per scoprire come mai la lapide di questo bambino fosse verde. Siamo sicuri che anche voi, come la sua mamma, non riuscirete a trattenere le lacrime. Un gesto altruista per un non vedente. Una buona azione da parte di uno sconosciuto può rallegrare una giornata a Cuba, non trovate? La storia di Casey Spellman è un esempio calzante, anche se in questo caso è lei a vestire i panni della buona samaritana. Mentre tornava a casa dal lavoro, Casey ha notato un uomo non vedente sul ciglio della strada che tentava in vano di fermare un taxi. Aveva chiaramente bisogno di assistenza, quindi si è avvicinata e gli ha chiesto se volesse una mano. L'uomo ha risposto di sì, e Casey lo ha aiutato a trovare un taxi libero e a salire a bordo, senza aspettarsi nulla in cambio. In quel momento, a sua insaputa qualcuno l'ha fotografata. L'immagine è stata poi ripubblicata su Facebook, raggiungendo centinaia di persone che hanno lodato la ragazza per il suo gesto altruista. Casey insegna in una scuola per bambini con disabilità auditive. Per lei è fondamentale riservare a tutti lo stesso trattamento gentile, indipendentemente da loro limiti. Siamo tutti uguali e abbiamo bisogno di poterci affidare gli uni agli altri. Se lo facessimo ogni giorno, il mondo sarebbe un posto migliore, ha commentato Casey, che non si ritiene un'eroina ma solo un esempio di persona cortese e col cuore nel posto giusto. La sua foto su Facebook ha fatto il giro del mondo e ha ispirato tantissime persone a compiere gesti altruisti. A volte una buona azione può risultare persino in una borsa di studio. Quando la gentilezza di questa ragazza è diventata virale tramite i social media, la sua buona azione è stata ricompensata. La diciottenne Evany Williams lavorava presso una Waffle House in Texas per pagarsi gli studi, affidandosi soprattutto sulle mance dei clienti. Durante un sabato mattina piuttosto impegnativo, Evany si è trovata a servire un cliente di nome Adrian, un anziano signore che faticava a tagliare la sua colazione con le posate per via di un tremore alle mani. Quando Evany gli è passata accanto tra una comanda e l'altra, ha notato che l'uomo aveva bisogno di aiuto. Nonostante il trambusto, Evany si è fermata ad ascoltarlo e lo ha aiutato a tagliare a pezzetti il cibo nel suo piatto. Cliente e cameriera non potevano certo sapere che qualcuno li stava osservando. Laura Wolf, un'altra cliente, ha colto l'occasione per scattare una foto ai due e l'ha pubblicata su Facebook come prova di un atto di gentilezza. Qualche giorno dopo, Adrian ed Evany hanno scoperto di essere diventati famosi. La ragazza è stata premiata per il suo altruismo dalla città di Lamarck, che ha convinto la Texas Southern University a concederle una borsa di studio. Oltre al denaro necessario per frequentare l'università, a Devany è stato messo a disposizione anche un consulente di studi che l'ha aiutata a scegliere i corsi da seguire. L'obiettivo della ragazza è studiare economia aziendale per aprire in futuro un ristorante tutto suo. La sua buona azione ha scatenato una serie di reazioni a catena che le hanno cambiato la vita. Quando ha ricevuto la notizia, Evany è scoppiata a piangere, e onestamente l'avremmo fatto anche noi. La spesa che fa la differenza La storia che stiamo per raccontarvi è molto attuale. I protagonisti sono Michael McGonigal e sua figlia Marley, e l'ambientazione è un supermercato come tanti altri ai tempi della pandemia da Covid-19. Da giorni padre e figlia desideravano aiutare le persone che avevano perso il lavoro a causa del virus, ma non sapevano come fare. Quando si sono ritrovati nel supermercato Calmore di Bailey's per comprare qualcosa da sgranocchiare, hanno assistito a una scena molto triste. Davanti a loro, in cassa, c'era una donna che aveva fatto la spesa, e non aveva abbastanza denaro per pagare tutti gli acquisti. Quando Michael l'ha vista rimettere a posto un articolo che non poteva permettersi, ha deciso di venirle incontro pagandole l'intera spesa. Non contento, si è offerto di saldare i conti di tutte le persone in fila dietro di lui, e ha lasciato alla cassiera la sua carta di credito. Gli altri clienti del supermercato lo ringraziavano increduli, stupiti dalla generosità di questo sconosciuto. Michael e Marley hanno annunciato a gran voce che avrebbero pagato la spesa per tutti quelli che non potevano permettersi di spendere. La cassiera strisciava la sua carta di credito con aria perplessa. Padre e figlia sono rimasti nel supermercato per un'ora intera, durante la quale sono riusciti ad aiutare ben 30 persone in difficoltà economiche. Nessuno dei due aveva mai visto un tale numero di sconosciuti così felici. Per fortuna Michael aveva denaro in abbondanza per aiutare i suoi concittadini. L'uomo ha commentato di sapere bene cosa si prova a non poter fare la spesa. Quando era bambino, infatti, anche la sua famiglia aveva avuto enormi difficoltà economiche. Suo padre aveva abbandonato sua madre da sola, con quattro figli, costringendola a lavorare senza sosta per mantenerli. La loro situazione era migliorata soltanto col trasferimento a casa della nonna. Col tempo Michael si era costruito una vita agiata e si sentiva in dovere di condividere la sua fortuna con gli altri. Siamo sicuri che i suoi gesti altruisti non si fermeranno qui. Un prato sempre verde. La perdita di una persona cara lascia sempre un vuoto incolmabile nei cuori di chi le sopravvive. Sembra che il tempo curi tutte le ferite, ma quando sentirete questa storia capirete che anche il gesto di uno sconosciuto può fare la differenza. Quando si visita un cimitero spesso si portano fiori o pensierini simili. A volte sulle lapidi crescono erba e fiori, ma in alcune regioni torride come il Texas il terreno rimane marroncino. Sulla lapide del sergente Joseph Villaseno, invece, cresceva un'erbetta verde rigogliosa. Come era possibile? Torniamo indietro nel tempo. Il sergente Villaseno era morto in un incidente d'auto all'età di 36 anni, dopo una carriera di 16 anni nell'aeronautica militare. Era stato un evento imprevedibile che aveva devastato la sua famiglia e sua moglie. I suoi genitori non riuscivano a sopportare la perdita di un figlio tanto giovane e lo visitavano spesso nel cimitero locale della loro cittadina texana. La vita di Raymond e Rachel Villaseno era cambiata radicalmente. Il loro unico sollievo negli anni era posare dei fiori sempre freschi sulla lapide del figlio defunto. Con l'arrivo dell'inverno, le loro visite si riducevano, per poi tornare frequenti quando le temperature risalivano. Anche quell'anno, con il ritorno della primavera, i coniugi Villaseno avevano deciso di riprendere gli appuntamenti col figlio. Il prato del cimitero era ancora arido e secco per il freddo e la lapide di Joseph si trovava in una zona priva di luce diretta. Potete quindi immaginare la sorpresa quando moglie e marito hanno ritrovato la lapide del figlio circondata da un prato verde acceso. Il resto delle pietre tombali giaceva sul classico terreno marroncino tipico della zona. L'inverno era appena finito ed era impossibile che l'erba fosse cresciuta spontaneamente. Per di più soltanto sulla lapide di Joseph. I suoi genitori hanno pensato subito a un miracolo, ma quando hanno scoperto la verità non sono riusciti a trattenere le lacrime. Quel miracolo era opera di un essere umano, un certo Jake Racing. Jake aveva perso sua moglie poco tempo prima e si recava spesso al cimitero per portarle dei fiori. Quando la moglie era in vita, Jake le regalava una rosa al giorno e aveva deciso di portare avanti quella tradizione anche dopo averla persa. Quando il prato era passito per il freddo, Jake aveva deciso di prendersi cura del terreno attorno alla tomba della moglie, perché potesse riposare a volte in un'erba sempre verde e morbida. Grazie alle sue cure, il prato era tornato regoglioso in poco tempo. Un giorno, durante una delle sue visite quotidiane, aveva notato una giovane donna che piangeva accanto a una lapide. Jake si era avvicinato con la speranza di poterla consolare. La donna gli aveva raccontato che in quel punto era stato sepolto suo marito, morto cinque anni prima in un incidente, e che continuava a sentire la sua mancanza come se il tempo non fosse mai passato. Jake le aveva parlato di sua moglie e i due cuori infranti, che condividevano lo stesso dolore, avevano provato a farsi forza a bicella. Jake comprendeva perfettamente la sofferenza nel cuore di quella donna e aveva deciso di prendersi cura anche della lapide di suo marito, in modo che anche lui potesse godere di un prato verde e rigoglioso. Quando i coniugi vigliaseno sono tornati da Joseph, hanno notato la bella sorpresa e sono rimasti stupiti. Anche Jake si trovava al cimitero e ne ha approfittato per presentarsi e raccontare l'incontro con la nuora. Ha spiegato che nelle settimane precedenti si era preso cura del prato che circondava la lapide di Joseph per onorarlo proprio come faceva con sua moglie. Raymond e Rachel non riuscivano a credere che uno sconosciuto si fosse spinto a tanto per alleggerire il dolore della loro famiglia. Hanno abbracciato Jake tra le lacrime e l'hanno ringraziato dal profondo del cuore. Le persone come Jake sono molto rare. Suo figlio Roger è molto orgoglioso di lui e ha deciso di raccontare la sua storia su Facebook perché il mondo intero conoscesse il suo altruismo. Il suo post ha ispirato molte persone a ritagliare più tempo per i propri cari perché è impossibile sapere quando ci lasceranno per sempre. Avete capito che impatto può avere un gesto altruista? Non importa quanto sia grande o piccolo, una buona azione può cambiare la giornata o addirittura la vita di una persona. Vi è mai capitato che uno sconosciuto vi sorprendesse con un gesto generoso senza aspettarsi nulla in cambio? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo video.